Oggi 28 dicembre 2021 ho saldato il ferro dove metterò la creta per fare il modello originale definitivo dopo quasi trent'anni di prove fatti volontariamente con molta contentezza sulla Davida non è tempo perso è tempo maturato approfondito perché non è che vuole fare una scultura bella a fine se stessa voglio il mio intento cioè l'intenzione di fare una scultura che simboleggi la pace per cui deve colpire deve restare in memoria già la posa del David è una posa che mi permette di fare questo comunque bando le ciance metto sulla creta come va come va Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.